Mister, una gara che il Foggia non è riuscita a sbloccare ma per larghi tratti è sembrata comunque avere impugno? Sì, questa credo che sia la disamina che tutti possono fare in maniera univoca, non credo che ci siano pareri contrastanti. Poi è chiaro che si può discutere sulle palle non concretizzate, sulle azioni che non sono state finalizzate. Diversamente credo che si dica qualcosa di diverso dalla realtà. Resta il fatto comunque che adesso sono tre le gare senza reti, diventa preoccupante oppure per lei non è un problema? Vabbè è un problema perché non vinci, è evidente, però già non aver preso gol è un passo avanti. Fino a quel punto i guanti ancora non erano spocchi, però Narciso nell'unica occasione si è fatto trovare pronto. Mi fa piacere che sottolinei l'unica occasione che hanno avuto quelli del Melfi e quindi la percentuale di Narciso è il 100%, una parata, un'occasione, una parata. Forse sul piano della forma fisica dove il Foggia sempre si è fatto trovare pronto l'unico è Zizzari un po' dietro condizione, condivide oppure no? Sì, è evidente, come condivido su Venitucci non sono ancora giocatori nel pieno della forma, si vede che sono un passo indietro rispetto agli altri. D'altra parte oggi non posso rimproverargli nulla, tranne il fatto di non essere stati cinici sottoporti, ma del resto le partite sono anche queste. Ci sono gli avversari, sono stati bravi, hanno saputo sacrificarsi, si sono difesi bene, a volte anche in 8-9 sotto la linea della palla. Però il calcio del campionato di Lega Pro è anche questo, la dimostrazione è che bisogna saper soffrire per riuscire a raggiungere gli obiettivi. E noi forse dopo da oggi, ma già dalla settimana scorsa, credo che abbiamo interpretato bene. Questa deve essere la nostra filosofia, al di là di giocare bene, ma credo che oggi non si possa dire nulla, ma soprattutto rimproverare niente, ragazzi. Soltanto come partito del luogo Zizzari un altruismo inutile. Il primo tempo su una palla dove bisognava tirare in porta, lì credo che siano aspetti personali dove decide il calciatore. Oltre che metterli in condizioni di poter realizzare, poi sta tutto nei loro piedi, ma soprattutto nella loro testa. Perché è evidente che ha visto un qualcosa di diverso, non so cosa, ma non aveva nessuno tranne il portiere. Un'ultima domanda, sul piano della condizione ha potuto valutare già Tommaso come l'Ombaretti? No, beh, Colombaretti se Venitucci e Zizzari sono un po' indietro, Colombaretti è solo all'inizio.